Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla residenza famiglia di Nuoro, una struttura per anziani situata in via Osta, al centro di un'indagine della Procura per una serie di reati che vanno dai maltrattamenti all'abbandono di persone incapaci, alla somministrazione di medicinali scaduti, all'esercizio abusivo della professione medica. Stamattina gli agenti della squadra mobile della Questura, su mandato dalla Procura della Repubblica, hanno eseguito il sequestro preventivo della struttura integrata. Sono stati apposti sigille all'ingresso della residenza famiglia, oggetto di un'indagine iniziata un anno fa, dopo che erano state riscontrate numerose irregolarità amministrative e dopo la segnalazione di gravi fatti da parte dei parenti di alcuni ospiti. Nel corso delle perquisizioni effettuate dagli agenti sia a Nuoro che nella sede della Onlus Anidoro a Cagliari, erano stati sequestrati i documenti ed erano stati trovati i medicinali scaduti. Inoltre, nel corso dei controlli effettuati dai vigili del fuoco, dagli ispettori dell'ASL e dall'Ufficio del Lavoro, sono state accertate violazioni gravissime delle normative sulla sicurezza antincendio e sui luoghi di lavoro. Il provvedimento di sequestro, richiesto dal Pubblico Ministero Giorgio Bociarelli e firmato dal GIP Claudio Cozzella, ha rilevato che la libera disponibilità della struttura potrebbe aggravare e protrarre le conseguenze dei reati ipotizzati e mettere in pericolo la stessa incolumità degli ospiti. Le indagini hanno portato all'interrogatorio di alcuni dipendenti della residenza famiglia e altre persone informate sui fatti. Inoltre, sottolinea la questura in una nota, nel corso dell'indagine è emerso che le condizioni igieniche dei locali e dei degenti erano assolutamente scarse e il personale sociosanitario infermeristico non era sufficiente a garantire un'adeguata assistenza, così come previsto dalla legge regionale che disciplina la materia.